Buongiorno e buonasera, qui c'è da Yoshi e siamo a una nuova puntata di Fire Emblem Blazings World. L'ultima volta abbiamo incrociato Lynn e compagnia Bella, ci siamo coalizzati per abbattere il cavaliere che stava di guardia al cancello della magione di Selene e oggi dobbiamo entrare e verificare che Lordhausen non sia già morto. Il ballottaggio è avvenuto come mi aspettavo a dirla tutta, avete votato per la pietra rossa e quindi i tre soldati verdi di questo capitolo li devo lasciare tutti in vita. Giorgio, lo sapevo, vedi, questo per forza che lo vinci perché una mina non attira altrettanto come soldi veri e propri. Anche se tecnicamente con una mina si può tirare fuori molto più di 2500 monete. Te generale, calmati, era solo un'armatura. Oggi affrontiamo un generale. E questo è un capitolo interessante, specie in Hector Ardmod. Uno perché Raven prende statistiche extra, contando come nemico, proprio come faceva Guy nel capitolo 13, prende statistiche extra solo perché adesso ha il momento nemico. Rip. Si è bloccato tutto per un momento, ok, non so cosa è successo, ma sto ancora registrando quindi immagino che va tutto bene. Bandicam fa la sbarazzina ultimamente. Speggio con la webcam più che altro, però, a parte quello. Andiamoci dentro. Allora. I punti interessanti in questo caso sono le due tesorerie. Però questa possiamo ignorarla completamente fino alla fine del capitolo perché non c'è nessun ladro che la minaccia, diciamo. Questa invece la minacceranno molto in fretta e siamo piuttosto lontani. Perciò dovremo usare la nostra cavalleria, ergo Marcus, Kent e Sein, per spingere in maniera incredibile attraverso tutti questi nemici e cercare di arrivare alla porta prima che il ladro riesca a entrare. E fidatevi che il ladro arriva molto in fretta, quindi dobbiamo stare attenti. Mentre gli altri possono rimanere un pochino indietro e, diciamo, ripulire quello che i cavalieri indeboliranno. E' anche per questo che ho comprato un fracco di giovellotti. Questo è il boss. Però hanno compreso a 16 di difesa. Ma ha un'ascia. E io ho appena... Ho appena ricevuto indietro uno dei miei lord migliori, quindi sì, sarà da ridere. Detto questo, beh, non c'è molto altro da dire. Quindi, cercherò semplicemente di fare il possibile. Cerco assolutamente di tenere il ladro fuori da quella stanza. Dovrò spingere tantissimo. Quindi farò le preparazioni off-screen e potremo cominciare a capitolo. Torno tra poco. Ok, dovremmo esserci. Allora, Merlinus esplonerà qui. E ci saranno cavalieri che arrivano da qui. E il compito di Oswin sarà di tenerli impegnati. Il problema principale, probabilmente, all'inizio di questo capitolo, è superare queste tre persone. Che sono messe in posizioni proprio scomode, ma scomode. 24. La buona notizia è che questo viene shottato da Sein. Con una lancia di ferro. Meno male che ho un Sein che è così forte. Dopodiché, il problema maggiore sarà forse Cavaliere. Dovrò usare due persone per lui e due persone per il mercenario. Però dovremmo cavarcela, vediamo. Ok, farò del mio meglio, presumo. Save state. E... Cominciamo. Sì. No, infatti, non voglio nemmeno farli lottare, amico. Va bene, come vuoi. Allora, come vedete il Revere è qui. E' assurdo come sempre. E questo è il nostro buon vecchio Lucius. Che dovrò portarmi in giro... Magari non nella prossima missione, perché la prossima missione è bastarda. Però... Da quella dopo in avanti probabilmente dovrei riuscire a cavarmela, vediamo. Vediamo. Allora Sein, vieni qui Sein. Ah, deve essere il supporto. Ok. Ok, 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 ok. In questo caso, ehm... Devo mettere... Weekend. Sì, ok, prendimi. Non mi interessa. No, è il supporto che mi permette di shottare questo tizio. Infatti. Sono contento di averli sistemati, questi supporti. Molto bene. Ora. Non ti ho dato un giavellotto a te? Ops. Non hai giavellotti? Questo è un problema. Ehm... Ah. Devo rischiare un 61, perché sono stupido. Fantastico. Eo. Tocca. Stavolta non sono stato punito per le mie azioni. Ho dovuto rischiare un 60. Ok, a questo punto... Ehm... Bartre. Indevolisce questo. E poi mi serve una scura per... Mi serve una scusa per spaccare una scura. Stessa cosa vale per Hector. Ok. Ho davanti solo persone che possono contraattaccare. Quindi dovrei cavarmela. Ok. Hollywood vai qui. Per dar supporto. Lì in stessa cosa. Meteo avanza finché ti pare. E Priscilla rimane dietro in range di qualcuno. Cioè in range uno per curare e fuori... Comunque fuori da quello degli aceri. Ehi tu, fammi uscire. Ok. Ce l'hanno con... Con Hector. Zittolus. Zittolus. Sì. No dai, non è pericoloso. Voglio dire solo Raven. Cioè Raven, sì. Ok, Raven da nemico è pericoloso. Però... È facile reclutarlo. Non Priscilla. Allora, vediamo. Ho dimenticato di... Oddio. Beh. Quello sì che è danno che potevo evitare. O meglio. Non potevo evitarlo. Ma dovevo canterare. Che idiota. Ho sbagliato. Avevo Matthew là apposta. Perché io... Ah sì. Certo che... Oh. E... E con Bartle ho dimenticato di... C'è più gente di quello che volevo. Sto quasi pensando di... Di... Ripartire da capo. Perché ho veramente faccio... Fatto una valanga di porcate. Ho troppo di acero in mezzo. Non... Non penso di poter... Di poter raggiungere il ladro subito così. Ehm... Ok. Allora. Facciamo così. Rifaccio il primo turno. Perché ho... Ho chiaramente sbagliato approccio. Cioè no. L'approccio è giusto. Ma ho... Ho fatto un paio di errori... Nel... Nell'assestamento dell'equip. Quindi devo rifare. Torno tra poco. Ok. Allora. Ehm... Uno degli arcieri... È stato doppiato da Shane. E l'altro è stato critato. Da questa parte. Ed ecco perché non ce ne sono. E... Qui... Kent ha mancato un giavellotto. E quindi questo tizio non si è fatto niente. Questo è stato... Contrattaccato da Bartle. E... Uno dei nomadi è avanzato. Purtroppo per lui ho una picca proprio... Proprio... Fatta posta per lui. Solo che... Ehm... Dovrò utilizzare i miei... Come dire. Le persone... Quelle che sono rimaste indietro. Perché sennò... Ehm... Non riesco ad avanzare bene con la cavalleria. Perciò... Per adesso... Ehm... Mi limito a indebolire sto nomadi con Hollywood. Che non critta. Vabbè pazienza. Oh. Non può critare sempre. Anche se... Mi piacerebbe tanto che lo facesse. Ehm... Hector può avanzare... Fin qui. Eh sì. Buongiorno. Ehm... Facciamo che... Oh. Ok. Perché no? Che idiota. Dovevo... Dovevo mostrarli. Ho dimenticato che dovevo mostrarli. Ho sbagliato. Ops. Dai, lo sono stare. Eh, certo. Certo. Certo che mi manchi. Certo che lo manchi. Per forza che lo manchi. Non dovresti mancarlo. Meteo. Pulisci. Ho bisogno che la cavalleria avanzi. Ok, dai, scusate. Ehm... Immagino che il supporto non lo vedrete. Almeno la B. Non era mia intenzione. Non mostrarvelo. Giuro. Ehm... Bartrae si è libera di uno degli arcieri. Buona esperienza queste arcieri, devo dire. Ok. Priscilla può usare una cura qui. Su Sane. Tanto... Priscilla non è urgente come... Ehm... Il resto della cavalleria. Quindi... Spingiamo tutti avanti. Sempre col giavellotto fuori. Perché... C'è un arciere lì in mezzo. Anche se sarebbe stato più intelligente... Forse... Tenere le lance fuori. Sì. Perché Marco può uccidere questo dizio tranquillamente. Lo shotta con la lancia d'argento, quindi. Già, già. Ok. Nonostante le mie cover e decisioni... Mi sembra che... Che me la sto cavando. Più o meno. Au. Eh, forse Kent avrebbe doppiato questo tizio. Beh, dovrebbe essere... Ellywood dovrebbe essere il ranger. Sì, sembra di sì. Au. Beh, oddio. Bartrae si ingerisce l'arciere da solo. Ce la fa, tranquillamente. Cioè, Dio. Posso perfino usare... No, non posso usare Ellywood. Può usare Matthew. Perché tanto... Tanto Matthew... Eh... Non mi serve esattamente che vada su... Eh... In fretta, in fretta. A me interessa più che altro liberarmi dai nemici. E impedire al ladro di entrare nella tesoreria, quella in alto. Voglio solo impedirgli di entrare, quindi... Per il resto frega niente, davvero. Ehm... Beh, questa sembra una kill facile facile per Sane. Non vedo perché no. Quindi indeboliamo questo cavaliere. Eh... Ancora già vellotti perché sto per... Per essere assaltato dai nomadi. Ancora, aggiungo. Ok. Ehm... Kent può avanzare per adesso. Purtroppo non onguenti su... Scusate. Purtroppo non onguenti sulle mia persona, però posso rimediare. Facciamo così. Kent può avanzare tranquillamente in questo modo. Bisogna che Priscilla salga. Adesso, però. Perché Raven sta per attivarsi. Ehm... Eliwood può andare e uccidere sto tizio. Non serve neanche lo spadino. Grazie a Dio i supporti. Non dico altro. Ok. Ehm... Priscilla avanza. Hector avanza. Oswin rimane qui da aspettare. Ciao. Già... Oddio, sto già avanzando. Oioi. Au. Ah, questo non muore nemmeno. Ah, nemmeno muori, amico. Ok, quanta gente avrai addosso, Sain? Beh, due al massimo. Au. Ok, questo va su Marcus. E le prende. Scure. Beh, non lo doppio, perché i nomadi qui iniziano ad essere davvero veloci. Parliamo di 10, 11 di velocità. E' già uscito, è 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 già uscito. Porca. La miseria. E' già uscito. Ok. Questo è il turno, sicuramente il turno più difficile. Dipende da come organizzo il turno. Il fatto che io riesca a impedire al ladro di arrivare lì oppure no. Ho bisogno che Marcus prenda e vada su, ma su veloce. Per fare questa cosa ho bisogno che... Oh, sei una poca vita. Se non avesse poca vita. Ah, però Priscilla è qui. Ah, ah. Se riesco a proteggere Priscilla. Dovremmo farcela, vediamo. Ho bisogno che Kent si ammazzi questo tizio. Vorrei andare di spada. Ma non è il caso. Non è davvero il caso. Piuttosto vado di lancia di ferro. Preferisco che Kent venga favorito dall'Ai, piuttosto che... che subire una differenza... uno svantaggio nel triangolo. Dopodiché, Sane viene qui. Usa una picca, per favore. Grazie. Ok. Usa una picca, prende, va. Ah, no, non mi serve neanche questa. Ok. È una scusa per spaccare la cosa, mi immagino. Vediamo. In due turni, se uso Marcus dovrei riuscire ad arrivare, però... Prima di fare questa mossa, devo decidere. Allora... Se io vado qui... Se io vado qui e ammazzo l'arciere, Raven attacca Marcus e si fa fare un culo così. Senza contare che c'è altra gente qui. Invece se lo punto nella posizione più avanzata possibile, Raven non viene attaccato. E tuttavia... Non credo che Priscilla sia in grado di reclutare, a meno che non riesco a ripulire qui. Ma voi altri? Avanzate. Ok, allora. Faccio un save state, perché penso di poter riuscire a bloccare il ladro. Però ho bisogno... di un po' di fortuna. Nel senso che probabilmente Priscilla viene attaccata da più di una persona. Quindi devo riuscire a evitare, se possibile. Perché... Allora. Nel senso migliore di colpire Priscilla, in teoria, c'è dovrebbe... A dire, la tuta ce l'ha l'arciere. Quindi non lo so. È davvero una questione di Priscilla riesce a vivere un turno, oppure no? E mi viene da dire no. Per questo ho fatto 6 state. Sì, ok, manca un 60. È per questo che ti faccio doppiare. Ecco. Elimino l'arciere per avere più chance. Perché gli altri... Sì, hanno probabilità che si aggirano sul 50. È un 50-50. Priscilla un colpo dovrebbe viverlo. Vediamo come va. Se devo rigare, rigo uso lì. Usando l'in. Perché a questo punto io riggo. Perché? Sta andando così bene. Ha fatto la porcata! Ah, quello... No, aspetta. No, 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 balle. Perché quel... Quel... Quello del cavaliere mi raggiunge. Oh, io, io. Ha chance peggiori quel cavaliere, ma... Se devo rigare, rigo. Non mi frega niente. Sì, martello, ok. Mandalo via. Eh, infatti. Già. Già, 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 già. L'ho immaginavo. Io rigo. Frega niente. Ho l'in apposta. Mi sono tenuto l'in apposta per rigare, quindi... Mi sta bene. Perché vedete, il vero problema sta nel posizionamento dell'arciere. Se fosse stato tipo qui, avrei potuto prendere Hector, portarlo qui, uccidere l'arciere e Priscilla avrebbe potuto subire solo un singolo attacco. Invece, in queste condizioni, io devo pigiare, perché se no... Il ladro riuscirà a entrare. E non posso permetterglielo. Devo raggiungere quel ladro. Liberarmi tutti gli ostacoli e shotarlo con Marcus. È la mia unica scelta. Sì, sì, chiave. Quindi, farò la stessa cosa della... Farò la stessa cosa. Però stavolta rigo il colpo con Lynn. Cioè, ok, sì, Hector uccide. Ecco, ok. È a sto punto rigo e lo faccio a screen. Quindi, ehm... Sì, torno tra un momento. Ok, è andata come speravo. Questo tizio mi è mancato. Quindi, ehm... Da qui non mi sembra che... Stiano arrivando già dei cavalieri, quindi... Matthew può avanzare. Ehm... Tu... Una spada, basta. Sì, hai voglia. Usiamo Lynn per liberarci di lui. No, Priscilla deve avanzare. Possibilmente fuori dalla range di Raven. A questo punto, ehm... Se Marcus usano un guento... Allora, la cosa peculiare di questo ladro, invece, è che non ha... Non ha... Non ha niente. Potrebbe rubare qualcosa. Ma vediamo come va. Allora, potrei usare una... Allora... La questione è, da lì mi attacca negli arcieri. Solo uno. Ok. Se io equipaggio un giavellotto... Posso aprire la porta? E al limite perdere un unguento perché uno dei ladri mi ruba un unguento. Però... Questo qui dovrebbe scappare. Adesso? Non lo so. Non sono sicuro. Allora, se Priscilla... Adesso Priscilla però deve... Devo pensare con Priscilla. Intanto devo tenerla fuori dal range di Raven, quindi... Mi fermerò col video quando recluto Raven, semplicemente. Credo che userò Sane per indebolire questo tizio qua dietro. O shottarlo. No, shottarlo non... Non succederà. Però è una lancia d'acciaio, quindi posso semplicemente ammazzarlo con la lancia di ferro. Aia. Ok. Non rimane che aspettare che Raven mi salti addosso e... E reclutarlo con Priscilla. E poi abbiamo fatto. Posso tenere qui Hollywood. E basta, direi intanto. Ok, sì. Sì, 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 sì. Ok. Bene. Danno che posso evitare, perlomeno. Devo vedere cosa fanno questi ladri. Sì, lo immaginavo. Lo immaginavo. Quel ladro lì, invece, sta scendendo. Scendendo. Signori! A quanto pare posso ottenere una chiave scassa ulteriore? Ah-ha! È stata una buona scelta! Ho sacrificato un guento, ma otterrò una chiave scassa che vale di più. Vale di più. Sapete che c'è? Ci sta. E questa è una S per Marcus. Fantastico. Ok, allora dicevamo. Priscilla. Ah, ok. Sarleon. Non so, non mi ricordo qual era il nome di quello del conte di Etruria. Mi ricordo solo il conte Regley di Etruria. E quello è Pente. Cornwell mi sembra regolare. Mi sembra che sia detto così anche in America. Già. Bene. Bravo. Ah, ok. Ben fatto Priscilla. E ora dobbiamo prendere Reven e portarlo a... Ad aprire la porta per l'Utus. Per adesso... Ho bisogno che... Matthew venga portato un pochino più avanti perché voglio rubare quel maledetto... No, dire il vero non serve. Oh. Ok. Allora immagino che... È il momento di... Tenere occupati quegli arcieri. Però non lo faccio subito perché devo... No, un attimo. Sto sbagliando qualcosa qui. Perché sto... Starei bloccando la strada. Forse vado ad aprire questa porta. È che non vorrei che scappasse. Quindi... Farò... Safe State qui. Voglio vedere un attimo come si comporta per chiudere. Eh, scende. Perfetto, ok. Probabilmente punta alla porta di Lucius e dei soldati. Che culo. Vi hanno lasciato tenere le armi. No, non capisco. Non ha senso. Che lazze di incompetenti sono questi soldati di Laos? Ok. E direi giusto in tempo. Eh, giusto in tempo. Sì, sì. Infatti... Fortunatamente questo nobade non mi doppia. Fantastico. Oswin si divertira tantissimo con questo giavellotto. Oswin da solo dovrebbe bastare qui. Allora... Eh, magari potessi rubare la lama letale, eh. Eh, Sefi. Ben fatto. Direi, ben fatto. Ehm... Non ri... Il passo più difficile adesso è tenere occupati gli arcieri nel... Che inizieranno ad apparire qui dentro. Qua. Inizieranno ad apparire arcieri. Quindi dobbiamo stare un attimo attenti. Oh, non ti posso giustare. Rip. Vabbè. Io ho una scusa per dare un livello a 6. In dato che non abbiamo visto livelli per tutto il video. Eh, ok. Resistenza. Che ti credi di essere, Hector? Ehm... Come vuoi, amico. Però sono contento di come... Di come è andata... L'intera cosa, qua. Ho salvato la tesoreria. Quindi possiamo, direi, continuare nel prossimo episodio. Ehm... Per il momento, grazie di avermi seguito. Io sono Sean Rioshi. E questo era Fire Emblem Business World. Se il video vi è piaciuto, se lo vedete di più... Lasciate un commento, mettete un mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, però abbiamo concluso, perciò ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!